... Genova, muovono verso l'imbarco. Il Saturnia li porterà nel Canada. Sono 566 profughi stranieri. L'IRO, Organizzazione Internazionale Profughi, provvede a farli emigrare in paesi che assicurino loro un domani. Ecco i biglietti, perfino di prima classe. Non così viaggiarono sui treni fiombati che condussero molti di loro a Dachau, a Mauthausen. Perseguitati di tutte le nazioni, parecchi ebrei. Le carrozzine di bimbi si fermeranno finalmente presso un focolare. La sirena del Saturnia è un appello lieto, scaccia dalla memoria lugubri sirene. La vecchia Europa vi manda il suo augurio e voi dite addio senza rancore al vostro continente che ieri vi fu così crudele. 4000 sono già partiti, oltre 2000 partiranno. Il Saturnia volge la prora verso alve di giorni migliori. 2 2 Grazie a tutti.